Buongiorno a tutti, per me si può iniziare. Sì, iniziamo. Censi, Roma Radio. Buon pomeriggio, mister. Buongiorno. Eccomi. Uno dei rischi di Roma-Empoli potrebbe essere il pensiero del derby? No, per me no, perché io so che poi cambierebbe quella partita in base al risultato che viene fuori da Roma-Empoli. Per cui io penso alla partita di Roma-Empoli. È sicuramente il miglior modo di preparare correttamente quella partita lì, anche se può sembrare più importante così. Perché quando confronti le due squadre e l'importanza poi nella nostra città del derby, ti può sembrare differente. Ma in realtà è che il modo di prepararla bene è fare bene la partita contro l'Empoli e vincere contro l'Empoli. Per cui tutte le attenzioni vanno lì. Paonessa, Roma TV Eccomi, mister. Buon pomeriggio. Molti nazionali sono tornati a disposizione solamente giovedì. Alcuni di loro, penso per esempio a Nengolan, hanno giocato 180 minuti. Allora, le chiedo come stanno prima di tutto, penso soprattutto a Daniele, De Rossi, e poi se questo può influenzare le sue scelte per domani. Allora, sono tornati tutti molto bene, eccetto Daniele che ha questo problema alla schiena, questo ematoma, però il fatto che non ci siano poi complicazioni a un punto di vista di radiografie, questa è la cosa fondamentale e la cosa più importante. Lui bisogna valutarlo di volta in volta, oggi già cammina un po' meglio e bisogna vedere, però domani penso che sia difficile, insomma, che sia a disposizione. Per quanto riguarda, scusami tu, per quanto riguarda invece gli altri si sono allenati bene ieri e io sono fiducioso, anche se poi un po' di fatica dal viaggio, dalle partite l'hanno fatta, per cui sarà da valutare bene, ecco. Angelo Mangiante, scusami. Sì, rimanendo su questo tema, considerando appunto le condizioni di De Rossi e la squalificazione di Strotman, Grenier può giocare? Sta bene, canto Paredes, o bisogna abbassare Nainggolan? Questo è un'altra cosa, siccome lui ha avuto questo problema al ginocchio nella settimana precedente, dove gli era gonfiato un po' il ginocchio e l'abbiamo lasciato fermo in questo momento dove c'erano i nazionali fuori e si è fatto un allenamento prettamente atletico per mettere roba poi che ci serviva di completamento, di lavoro, insomma, in quei due o tre giorni lui l'abbiamo lasciato fermo. Per cui io lo rivedo in questi giorni, l'ho rivisto ieri, perché da ieri è stato dentro il gruppo, lo rivedo oggi e sono valutazioni che vanno fatte piano piano, però in conseguenza di quello che ci ha fatto vedere, che ci ha dimostrato, è una cosa che può essere presa in considerazione, insomma, di farlo giocare, ecco. Volevo un'altra valutazione, qui extracampo, la volevo se era possibile sulla figura di Monchi. Adesso poco fa c'è stata la conferenza stampa da Dio, ha detto, ha ammesso di aver incontrato Pallotta a Londra, insomma, chiaramente non ha detto ancora di aver firmato con la Roma, ma se appunto dovesse essere lui il direttore sportivo della Roma, insomma, come ci risulta, è una garanzia di crescita comunque del club, considerando appunto il lavoro di Monchi in questi anni al Sevilla. Ho capito, ma hai usato, se dovesse, si va a parlare di cose future, per noi la priorità è la partita contro l'Empoli di domani. Io non so niente in riferimento di questo, cioè non ho parlato con la società di niente in riferimento a Monchi, e il mio direttore sportivo è Enrici Massara. Secondo me bisogna avere rispetto per quelli che hanno lavorato e che hanno lavorato bene come Enrici Massara. Io ho avuto due direttori, che sono Walter Sabatini, di cui ho avuto modo di parlarne più di una volta, e si sa qual è il mio pensiero. Su Enrici Massara è altrettanto di qualità, perché è una persona squisita, un modo di starti vicino, di capire determinati momenti, una qualità di intendersi di calciatori e di calcio, che secondo me a disperderla sarà qualcosa che poi manca alla Roma. Per cui io, se volete, continuo su di lui. Su Monchi ho sentito parlare, mi dicono che è un grande professionista, però l'ho letto soprattutto sui giornali. Serafini, il tempo. Buongiorno, mister. Sì. Questa volta che ci eravamo visti, lei ancora doveva incontrare Pallotta. Poi c'è stata la cena, ha avuto modo di parlare con lui. Ci vuol dire cosa vi siete detti, che cosa le ha detto Pallotta, se vi siete dati delle scadenze per il futuro, se avete parlato del futuro? Sì, abbiamo parlato di tante cose. Prima di quando si va a cena con il Presidente si parla di tante cose. Per me è stata l'occasione di dirgli di persona quello che ho sempre detto a voi. Per me è stata la possibilità di poter esprimere quello che è il mio pensiero, che è sempre stato lo stesso da quando sono qui, a lui direttamente, che è la cosa poi più importante, il contatto diretto. Per cui gli ho ribadito quello che ho sempre detto a voi. Quello che mi ha detto lui bisogna chiederlo a lui, perché io non vado a fare la spia. Non sono uno spione. Dubaldo, Corriere dello Sport. Sì, sempre in riferimento a quella cena, a quell'incontro che avete avuto quella sera. Visto che da allora non ci siamo più visti, non abbiamo più avuto modo di parlare in conferenza. Volevo chiederti per te qual è il ruolo di Baldini in questa Roma e se, in qualche modo, visto che vi conoscete da tanti anni, c'è stima reciproca, credo è una figura di garanzia per l'eventuale decisione per il futuro. È un modo di deviare l'attenzione che ci deve essere dentro la squadra alla quale io non partecipo, perché io l'organigramma della società della Roma non lo decido, lo decide Pallotta, per cui a me interessa la partita di domani, andare a parlare di quella che è l'organizzazione societaria. Vuol dire parlare d'altro, insomma. Niente deviazioni. Dritti verso la partita di domani. Pugliese, Gazzetta dello Sport. Buongiorno. Allora torniamo sulla partita a questo punto. Io le volevo chiedere, considerando proprio l'assenza di domani dei rossi e Strotman e considerando anche quello che sottolineava il collega prima di Nainggolan che ha giocato 180 minuti in funzione anche del derby, Nainggolan è più giusto farlo riposare domani o è più giusto farlo giocare domani? Lei ha fatto molte considerazioni giuste che tenterò di fare anch'io e in questo caso qui potrebbe essere un vantaggio da dare agli avversari che vista poi l'importanza della partita preferiscono non fare. per cui sono considerazioni che mi tengo per meglio. Parisi, Centrosuono Sport. Buongiorno mister. Senta, se la Roma dovesse vincere domani contro l'Empoli si ritroverebbe a meno 5 dalla Juventus e a più 6 dal Napoli. Ecco, a questo punto le chiedo per chi ti fa domenica sera. Guarda, io ho molti difetti però ho una dote. quello è che non faccio gli abbassi e che non vado poi a gufare nessuno, a guardare le cose tentando di metterci poi il malocchio addosso o di cercare vantaggio. Io devo soprattutto lavorare in maniera professionale, essere competente per quello che mi riguarda. devo fare il mio fatto bene, anzi, se ci riesco benissimo. Per cui quella sarà una partita che io guarderò attentamente perché ci sono due grandi squadre, due grandi allenatori, grandissimi calciatori dalle quali giocate ci sarà sicuramente da prendere poi e da riproporre degli schemi di gioco. e allora io me la guardo e me la gusto perché sarà uno spettacolo sicuramente di grande livello. Poi al San Paolo gremito sarà ancora più bello assistere, anzi, se potessi e se posso ci vado. Fagnano, Redesport. Salve mister. Tra le domande dei nostri ascoltatori c'è una che riguarda l'utilizzo di Totti, tralasciando appunto i fattori extracampo. Ad oggi che tipo di partite può giocare da qui a fine stagione Francesco Totti? Sai, ne può giocare diverse, dipende un pochettino da quello che è poi il tipo di partita, il risultato, il momento che lui sta attraversando, come tutti gli altri calciatori. Io lo considero dentro la squadra, allo stesso livello di tutti gli altri calciatori. Per cui faccio le mie considerazioni, faccio il mio lavoro e vado poi a decidere quello che fare, come ho sempre fatto. Anche in futuro sarà così. Facciamo l'ultima. Teleradio Stereo, zio Antoni. Buonasera mister. Le faccio una considerazione numerica, poi procedo con la domanda. La Roma negli ultimi tre anni è arrivata a 17 punti della Juventus per due volte, a 11 punti l'anno scorso. Ci sono ancora 27 punti a disposizione, il che vuol dire che potrebbe battere il record di punti storico che ha fatto Garzia qualche anno fa. Le chiedo, lei ha sempre detto che sarebbe rimasto se avesse vinto. Arrivare ai secondi accorciando il gap della Juventus e facendo record di punti è una vittoria ed è il calcio che non è uno sport, evidentemente, che valuta il secondo posto come un fallimento o è l'ambiente di Roma, l'ambiente romano e Roma? Allora, secondo me, quando si guardano poi a dei percorsi fatti, gli si può dare la valutazione che si vuole, il percorso dice poi quella che è la soluzione, che tragitto è stato fatto, quanta strada è stata fatta e via dicendo. Io, se non vinco, non rimango. Vincere vuol dire vincere un titolo, è quello che si è sempre detto poi dall'inizio dell'anno, dall'inizio dei due anni, per cui poi intorno ci puoi mettere quello che ti pare, ognuno poi le cose le direziona come meglio crede, però il mio è sempre stato quel discorso lì. Fare tanti punti sarebbe un piacere, sicuramente mi dicono, mi sembra che Gianni prima mi diceva che i tifosi, che la curva ha deciso di entrare, se non sbaglio, se me lo confermate anche voi, ma credo più a lui che a voi, per cui è inutile che me lo confermiate. Spero di non leggere delle offese, se rifaccio riferimento come ho letto l'ultime volte, quando poi ho fatto dei riferimenti alla curva, e di essere il più preciso possibile. Ogni qualvolta la palla andrà fuori, il gioco sarà fermo, io mi girerò verso la Sud, perché la curva mi è mancata in questo periodo, e me la voglio gustare in questa partita che ci sarà. Il calcio è un fallimento o è per l'ambiente di Roma? Come scusa, il? Il secondo posto è un fallimento, anche negli Olimpiadi, che arriva secondo, ma che era gente, ha un ottimo risultato, il calcio sembra essere un fallimento. È il calcio che decide che il secondo posto è un fallimento, o è Roma che sceglie questa cosa? Guarda, qui in questa sala stampa ci sono grandi firme, sono stato sempre seguito da grandi firme, Cecchini, Valdiserri, Vocalelli, Dubaldo, grandissime firme. Loro racconteranno quello che gli sembra più giusto raccontare. Max Triller, tutte grandi firme. Grazie. Grazie.